Aumentano i costi della politica e per far funzionare la macchina amministrativa del Comune ci sono meno soldi a disposizione. Ed ecco che al Presidente del Consiglio arriva l'invito a ridurre il numero di consigli comunali e commissioni. Consiglieri sul piede di guerra per l'annunciato ridimensionamento del loro gettone e di fronte a un problema che si presenta sotto due aspetti. Il primo è certamente quello politico. Lo Stato ha tagliato il giorno di libertà per i consiglieri quando viene indetto il Consiglio Comunale, quindi è stata tolta la possibilità di leggere le pratiche prima del Consiglio Comunale. Adesso con questa lettera fatta in maniera assurda dall'amministrazione viene fatto un invito specifico a ridurre il numero delle commissioni. Quindi praticamente l'organo supremo collaterale al Consiglio Comunale dove si esaminano le pratiche è stato detto dovete riunirvi di meno perché costate troppo e non servite a niente. Anche di natura amministrativa la questione del taglio ai gettoni dei politici. Quanto costa un Consiglio Comunale si può sapere prima, basta fare conti a inizio mandato, secondo i tariffari previsti dalla legge. L'aspetto amministrativo denota un'incapacità di base di quella che è la possibilità di prevedere, quindi stimare e accantonare le somme. Fin dal primo giorno questa amministrazione sapeva che erano 10 assessori, 4 delegati e 40 consiglieri. È previsto da legge quello che è l'emolumento, l'indenità da dare sia agli assessori che ai consiglieri. Bastava calcolare ogni anno l'appostamento massimo per quello che erano le spese della politica e poi eventualmente a fine anno fare una manovra correttiva, quindi un assestamento, decurtando ciò che avanzava. Non è possibile arrivare a quest'anno, dopo 4 anni che questa amministrazione si è insediata, sentirsi dire costate troppo, non ci sono soldi. Ma scusate signori, la capacità amministrativa è proprio quella. A postare fin dall'inizio quella che era la capacità massima, anche in questo si è dimostrata una difficile e grossa mancanza nel prevedere quelle che sono le spese nell'immediato futuro.